Allora, il video parte così, praticamente stiamo andando a trovare il pazzo che l'hanno internato e per entrare dobbiamo fare una serie di combinazioni tipo Mission Impossible Allora, ovviamente siamo in un cavo di una banca quindi adesso il grande Michele Ponti farà tipo delle flessioni per scaldarsi poi mettiamo sotto la musichetta Allora, ovviamente siamo in una banca è un esercizio del professore Farastropi è un tipico è un luminare dici che così l'intelligenza inferiore